Siamo con il dottor Francesco Malatesta, chirurgo estetico, oggi parliamo con lui di chirurgia estetica nelle persone obese. Uomini e donne per dimagrire possono anche rivolgersi a un chirurgo estetico. Quali sono gli accorgimenti o qual è il tipo di percorso da fare in questo senso? In realtà quando si deve dimagrire non ci si deve rivolgere al chirurgo plastico, ma bisogna rivolgersi a qualcuno che si occupa di dieta, quindi una specialista di questo campo. L'archidurgia estetica interviene in una seconda fase, cioè quando c'è un esito di obesità. Cosa vuol dire? Quando c'è già stato il dimagrimento, chiaramente una grande superficie cutanea perde il contenuto che è il grasso dopo il dimagrimento e quindi ci sono delle zone dove la pelle si accumula in maniera anche estremamente abbondante e che crea un grande disagio. Quindi a volte questo dimagrimento porta esteticamente quasi un peggioramento dal punto di vista estetico. Allora è necessario mettere in mano questa situazione, in particolar modo l'avanzo di pelle, di cute, si evidenzia alla base della pancia perché questa pelle in avanzo fa una specie di grembiale che arriva a volte fino anche alle ginocchia. Insomma è una cosa molto importante. Allora in questi casi si esegue un'odominoplastica, la pancia che ha perso il grasso, gli facciamo perdere anche la sua cute, quindi con un'incisione, quindi una cicatrice che sta sotto lo slip, per quanto possibile ridiamo una forma gradevole dell'addome. La stessa cosa, cioè l'accumulo di cute, lo possiamo avere nell'interno delle cosce oppure nella radice degli arti superiori. Mi riferisco a quando nella posizione elevata del braccio c'è quell'effetto a pepistrello si dice, no? A tendina. A tendina che è veramente fastidioso. È anche rilassamento quello. Sì, sì, ma è proprio cute in più, che chiaramente si può anche verificare in certe situazioni non di obesità, ma nelle situazioni di obesità è eccessivo. Poi ci sono delle piccole liposuzioni di riferitura, laddove, come si sa, il dimagrimento può non essere perfetto, ci possono essere delle zone che rimangono delle adiposità localizzate, ecco che la liposcultura lì può dare un momento di riferitura. Ecco, dottore, quindi sia uomini che donne devono prima fare un percorso dietetico e poi eventualmente vengono dal chirurgo plastico. Sicuramente sì. I risultati sono efficaci? Sicuramente sì. Ci sono delle situazioni in cui possiamo fare anche in prima battuta delle restrizioni, perché ci sono dei grandi addomi che già di per sé, per esempio, calano molto e quindi, diciamo così, che una persona non vede il risultato, vede troppo lontano, quindi dagli un aiuto iniziale, togliendo una parte grande di pancia, può aiutarlo psicologicamente ad intraprendere un percorso di dieta. E quindi si può invertire a volte questo percorso.